Questa università dovrà essere fiera di lei. Ha un vero dono, ma ha anche un'istruzione da pagare. Non hai requisiti per una borsa di studio. Devo trovare 60.000 dollari in una settimana, sempre che io non mangi. Benvenuto nel mondo reale, signor First. Vuoi fare i soldi della retta col gioco d'azzardo? Deve essere bello avere qualcuno che ti paga l'istruzione. Devono averti imbrogliato. Questo è davvero fuori scala. Ivan Block continua a gestire un importante sito web di poker online in Costa Rica. Stai per andare in un paese dove non sei mai stato con una lingua che non conosci. Ti rendi conto che è una foglia totale. Mi chiamo Ivan. Richie First. Questo è il banco. Perché il banco? Perché vince sempre. Così non dobbiamo imbrogliare la gente. Ma il calcolo è giusto. Ho trascurato qualcosa. No. I programmatori hanno inserito una backdoor nel codice. Hai visto. Sei venuto da me. Per il tuo disturbo. Sempre che tu non abbia voglia di rimanere un po' e provare un'attività vera. Garantito un guadagno a sette cifre nei primi 18 mesi. Godrò nel vederti spenderli. Che ne dici? Tu che ne pensi? Mi chiami agente Shavers. L'FBI è nel business dei rapimenti adesso. Corruzione di pubblico ufficiale. Estorsione. Non hai la minima idea in cosa ti sei cacciato. Perché l'FBI mi sta addosso? Domandati. Stai facendo qualcosa di male? Lo stiamo facendo. Pronto? C'è una cosetta che devi fare. Amico mio! Dì al tuo capo che gli mando un messaggio. Block! Mi hai incastrato. Questo è il tuo lavoro. Se vuoi un lavoro più sicuro, va a lavorare alle poste. Vuoi una coscienza pulita? Fonda una onlus. Ma se vuoi un'isola tutta tua e il tuo capo ti dice Esci e fatti pestare. Tu esci, lo prendi, torni al lavoro e chiedi vuoi che lo faccia un'altra volta? Ci fornirei le prove contro Block. Quello che devo fare per uscirne non posso farlo da solo. Sono coccodrille? Sì. Per ricordare chi vuole prendersi un pezzo di me. Che vuoi fare?